eccoci previously on a pranzo con siamo online allora io sto facendo tanto siamo siamo in un punto in cui probabilmente passeremo la prossima e due ore a ripeterlo all'infinito ed esisteremo dopo questa puntata continuare a farlo perché perché non siamo più io non sono mai stato un videogiocatore lui ha smesso di esserlo ormai tempo fa perciò il risultato che la roba che farmi poi non la usi perché dici potrebbe servirmi in un'altra vita è un po come gli egiziani con le monete sugli occhi che non si sta mai chiedendo di pagare il traghetto questa scena me la ricordo gli egiziani con le monete sugli occhi non lo sapevi che mettevano le monete sugli occhi per pagare il traghetto per il di là ma quando erano morti sì sì no pensavo andassero in giro con le monete sugli occhi dico ma cazzo fanno tacci su al telefono mi piace il colpo erano i greci romani ho detto una stronzata guarda sta lì sono ai livelli culturali di favij lancia il razzo non ho nessun razzo alessio hai rotti il cazzo con questo razzo non ho razzi avete rotto il cazzo con questo razzo alessio sto nel nostro è impossibile ma scusa ma sai perché no tu hai un problema hai un problema hai un problema sei stato davanti alla porta da aprire mezz'ora ma non sono stato mezz'ora ho spinto mi sono girato era lì alessio no abbiamo parlato mezz'ora tu devi andare in quella porta aprirla ma c'era la mappa aperta non è di cazzo ogni volta infatti devi salvare dice di non usare il rilevatore di 10 cm da lui perché se ne accorge perché fa tutto tutto e porca troia sta mosca la camera di lei è di fianco dove stai scherzando sta di fianco a te non c'è non c'è apri apri il rilevatore e ce l'hai dietro avanti c'è avanti c'è avanti c'è avanti c'è avanti dove sta andando dove sta andando dove sta andando entra qua dentro tieni premuto tieni premuto tieni premuto xy xy quant'è vicino 07 no 07 controlla la distanza si sta avvicinando come si trattiene il fiato per cortesia diteci come si trattiene il fiato mi hanno detto che bisogna trattere il fiato sei fermo ma che fatti è entrato lui ha diventato la cosa ma come si trattiene il fiato porca cima così non andremo mai non hai preso la mappa no ma che coglione che sono ma sono veramente un po di abbassi ma devi essere così arrogante ci deve essere dialettica fra te l'alieno ci deve essere quella componente di sfida se tu parti svantaggiato mentalmente morirai ti faccio vedere come con grande serenità possiamo vediamo quanto ci metti a a morire guarda conto uno due adesso cosa fai conto per tre minuti perché ci pensi di arrivare a tre minuti prima di morire alla grande adesso ma morirai in istante proprio già sei morto è giù di qua vero già sei morto in piedi poi ti metti corri pure no corri corri no mi chiedo come sei già morto perché stai senza il coso acceso guardalo 70 60 50 sei già morto devo andare l'armadietto 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 sono morto sono morto sono morto sono morto secondo me sì sei proprio una sega lo vedi che sei una sega astronomica l'armadietto sei una sega astronomica salva 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 campioni del mondo adesso salvo si e muoio e tutte le volte ripropareremo colui che fa zazzo la donna mi ha fatto più una paralisi e poi si è morto guarda vedi 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 fermo fermo il mobile siamo morti secondo me si arriva 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 forchia eh siamo morti eh vabbè però ma tu non mi puoi lanciare ma tu mi puoi fare gira 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 dove cazzo giro girati girati tranquillo dai no è possibile no no è possibile non conviene dritto dove viene dalla porta cioè io apro la porta a destra ma che è a destra è dritto ma dritto dove eh non lo vedi che è dritto sarà dietro la porta eh allora gli apro la porta prego signor si fa davanti si vuole accomodare cos'è 1 2 7 0 1 7 2 sì 1 7 0 2 madonna Alessio no io sono quattro cifre del cazzo cioè è dritto abbassati ma che fai non apri per vedere dove sta vai dritto lì non ti nasconde è a 90 è a 90 è a 90 è a 90 niente frega più in cazzo ha detto che gli abbiamo rotto il cazzo è troppo facile da ammazzare non prendere il ketchup non uscire non uscire non uscire adesso entra adesso entra adesso entra adesso arriva 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 non entra nel condotto non entra nel condotto non entra nel condotto eh vabbè è segretino quando è aperto funziona è qua davanti è qua davanti riesci da dietro riesci da dietro non da qua da dietro non da qui da qua è che cazzo alessio dai stai facendo cadere gli scatoloni alessio cammini e fai cadere gli scatoloni guarda ma che cazzo sta a fare il trasloco guarda dove salvo vai sinistra ma sai che è che sei schizofrenico guarda qua che cazzo è successo sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando alessio dove mi nascondo entra 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 non ti fermare in un corridoio entra dentro non ti fermare qua dove è andato dove sta andando dritto dritto no dritto lì a sinistra dritto non si esce perché là c'è il salvataggio dove c'è il ditto dove vado spegni la luce e spingi la mappa a destra spegni la luce col triangolo e gira di destra fai piano non corri scatoloni a sinistra ti prego cammina sotto la cosa apri guarda dove sta ok vai a salvare orca troia piano non correre mamma mia alessio proprio guarda veramente è impossibile giocare con te ma che se ti sto portando avanti senza morire da mezz'ora dove mi nascondo dentro il cabinet dentro il cabinet più a sinistra più a sinistra dalla porta tu mi metti tra la fase io non ho ansia e tu me la dici guardalo fermo fermo stai fermo non devi camminare no sei morto per forza devi trattenere l'aria perché entri alessio non devi entrare allora quando giochi te io ti dico A e cagli il cazzo no non è vero quando gioco io che già ho l'ansia di mio mi dici B e mi cagli il cazzo ecco adesso dimmi che faccio adesso che arriva entra entra non entra porca puttana allora stai attento stai attento stai attento stai attento stai attento devi stare devi quando ti madonna è entrato è entrato è entrato aspetta che faccio che faccio alessio essi essi che faccio che faccio ma non lo vedi 60 50 vabbè salutalo dai farci tu chiacchiere già in casa ma devi andare un po' tranquillo sennò Pierpa sei sempre bloccato sinistra adesso fai finta come prima cammina facendo finta di nulla e poi muori sta di fianco a te ma non lo senti il rumore ma tu sei cretino ma sei stupore mi hai tirato un'artigliata che ha niente fa una siga fai i respiri come nei film è fantastico non va un cazzo adesso non va adesso arriva l'anian ecco qua tu usa la tessera d'accesso spingi spingi pulsate no no fucking god no a segnalare il problema io ma chi lo segnali a sto cazzo posso segnalare il problema vai indietro e rientra no secondo me non ha affatto in tempo a salvare vedete la coppia con te che giochi non è male la coppia con me che gioco cioè con te che giochi e te che fai la chicca isterica no ti do l'indicazione ah però è subito qui caluman coolman vabbè come cazzo devi spingere proprio il pulsante sì lo so però prima devo attivare spinge il pulsante continua a lo spingere vabbè cioè a me secondo me è un problema qua subito sembra che hai delle ansie io non ho ansie chiedevo ma più che altro guarda la mappa io sono praticamente certo guarda la mappa guarda la mappa guarderei la mappa eh sette volte però continuano a farlo pumfa elettrico cos'è sulle porte si scarica ma mi dice che non è per l'anien tardi nella scossa ma che cazzo dice Alessio dalla scossa all'anien ma che cazzo sta a dire siamo morti siamo morti ma che colpo siamo morti guarda guardalo fagli ciao 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 mamma mia che colpo infirito mamma mia guarda che a destra apri quel coso apri quello sta di fianco apri quel cazzo è lontanissimo è lontanissimo è a chilometri di distanza hai fatto hai fatto ho preso tutto cerchio invece di prendere il sensore no l'ho preso il sensore ce l'abbiamo se ci sta dentro che facciamo piene vedi che c'è c'è ma è pieno eh esci dai oh sta arrivando adesso che fai dimmi adesso che fai 70 adesso resti qua sul corridoio 60 voglio capire sei voletino si sta avvicinando qua io non mi posso nascondere da l'altra parte si si qua sotto no vabbè dov'è la destra c'era un cassettino di là un cassettino di là un cassettino di là un cassettino di là un cassettino di qua di qua di qua entra ti è venuto ti è venuto vieni stai attento Alessio è notorio che l'alien ha paura del freddo soffre un po' di allora devi far qualcosa Alessio non devi camminare a guardare i morti vedi sta cazzo di bombola del cazzo dici che peserà cammina raccogli eh no non pesa tantissimo non fare questa cosa non è torna nella stanza abbassati torna nella stanza sai cosa io tornerei nella stanza attento controlla però madonna santa madonna santa cosa fai dove vai dove vai guarda si entra si ma non c'è nessun posto cosa è successo Alessio che è successo sono morti come fai cosa fai cosa fai cosa fai vabbè però sei cretino perché corri magari non ti aveva visto se non torneri perché vi dai questo cosa perché volevo provare se effettivamente era così adesso è da rifare tutta sta menata vabbè però tu sai che veramente probabilmente ci durerà 35 ore il gioco eh che sei scemo no sono un po' sono un po' infastidito sono un po' infastidito perché non sai giocare sono un po' infastidito sono un po' infastidito perché ho fatto tanta roba l'ho buttata via per stupidità perché sei stupido ma che hai fatto no non sono stupido ho commesso un'azione stupida è diverso la mamma la mamma mi diceva sempre così cioè stupido è chi lo stupido fa esatto sei morto sei morto sei morto ti devi nascondere cosa faccio ma non puoi non scusami però la tua strategia non può essere non può essere no è 018 probabilmente lì davanti alla porta che sta aspettando eccolo infatti sta andando via ma no sta cambiando nei condotti ci chiedono se abbiamo intenzione di platinarlo dipendeci anche una serie di ferie per farli ora eh no stavolta perché mi hai fatto eh sono strusciato ne volevo fare una puntata non ce la faccio più eh ma questo era fatto ma lì squagliato dal sudore adesso eh la tensione non devi cazzeggiare troppo ora aboliamo la pausa caffè ed ogni ogni altra produzione di video facciamo esclusivamente a pranzo con alien isolation è un po' estrema come richiesta eh salvate e andate al condotto la faccia di Pierpaolo da cartone non si vede niente entra 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 non c'è il modo di salire le scale in silenzio No, poi guarda come si muove, sembra. Ma sei tu? No, io sto cercando di guardar su, ma lei si muove in questo modo, mi sembra dislessica. Perché dislessica? Ho un po' paura, Alessio. Di che cosa, Pierpaolo? Ha fatto... No, no, perché entri in un armadito se non ha senso? E poi ce l'hai? No, te lo so spazzato! Ma perché sei uscito? Cioè, perché sei entrato che non aveva... C'era alien di piano! Adesso è tosta, ragazzi. Adesso sono cazzi. Ah, cioè, adesso è tosta? Davvero tosta se non potete usare gli oggetti. No, ma abbiamo un tubo! Un tubo ce l'abbiamo, abbiamo due stronzate, no? Madonna, sta l'Alessio! Alessio! Devi stare... Va bene, è possibile! Guardalo! Guardalo! Va bene, adesso andrà via Pierpaolo! No, continua a girare l'intorno! Andrà via! No! Fai il giro là davanti! E farà il giro tondo 3 minuti! Dopo se ne va! Controlla il PPP! Vai, controlla il PPP! Vedi che fa? Guarda! Gira in modo isterico! Guarda, vedi? È là! Ma quindi è impossibile! Non abbiamo niente da lanciargli! Come cazzo facciamo? Allora ricordati di... Che devo fare? Shhh! Pronto a non respirare! Pronto a non respirare! Ma che vuol dire pronta a non respirare? A non respirare con i pulsanti! Seguendo le indicazioni del... È impossibile! Mi spieghi qua cosa facciamo? Il problema è che io posso anche lanciare un razzo! Dove cazzo vado? Lo lanci dritto e poi vai a... E poi che cosa fai? Non potevo andare qui dentro adesso! Ma poi che cosa fai? Ma non lì! No! Intendevo di là nel corridoio ovviamente! Infatti non ho capito cosa hai fatto! Fermo! Fermo! Fammi vedere! Fammi vedere! Sta guardando un razzo! E voglio capire come si comporta! E poi dopo siamo morti! E se lo conosci lo eviti! C'è tipo se tu adesso gli passi di fianco... Lui è attirato dalla luce! Certo! Provaci tanto! Cammina te! No no no! Vai a sinistra e cammini te! Io col cazzo che gioco adesso! Aspetta! Vai te! Come faccio a camminare? Devi continuare a camminare così! Stai fermo o lui cammina? Dove vado? Continua! Dove vado? Qui a destra? Entra a destra! 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 Sta arrivando! Non uscire! Sta arrivando! Come hai fatto? Sii! Ma come cazzo era? 70! Porca troi! Pronta a spingere! Pronta a spingere L2! 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 Quella sotto! Quella sotto! Quella sotto! Quella sotto! Dove sta? Dove sta? Dove sta? Mamma mia! E' ancora lì? E' ancora lì? Sei sicuro? Si! C'è la cura! Ok! E' lì! Shhh! 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 Pronto a quelle due! Pronto a quelle due! Shhh! Ma non è che mi sente? Shhh! Mamma mia! Aspetta! Alessio! Madonna! Ma perchè non scopriva da un VHS? Perché è il futuro del merda! Mi piace tanto! Non potevo sapere! Ma dov'è? Non lo so però... Si è aperto una porta! Ma è aperta te? Si! Non si è aperto! Ok! No! Spicci! Svento! Shhh! Craftalo! Craftalo! Come ha fatto a non vederti? Se l'ha aperta lui la porta! Ciao! Cioè veramente Alessio? Non si sa che stai facendo? Puoi stare un attimo fermo! Si! Non la sapevo! Non la sapevo! Sta dentro! Sta dentro! Che devo fare? Puoi craftare qua! Crafta un po' di roba! Vedi che te l'ho detto? Eh che cazzo! Hai visto l'Union? Si! Allora aspetta! Lui è andato a sinistra! A destra si salva però eh! A destra si salva? Così c'è scritto! Non c'è nulla nella cambusa! Allora che faccio? Provo ad andare a salvare! Lancio la cosa e vado a salvare? Non te la devi lanciare per me! Lancio la cassa acustica dai! Devono leggere me! No! Centini! Devono leggere te! Perché secondo me sai perché ti vogliono fare andare a destra? Ma li montacci lui sua! Ti volevano fare andare a destra per quel motivo lì! Adesso esci esci! No! Non puoi sprecare le cose! Io qua non so cosa fare! Il salvataggio sta dove sta scritto reception sicurezza! Controlla! Tacci sua! Che volo che ho fatto! Ma dove è uscito? Non è entrato nella stanza! Non lo so! Non è entrato nella stanza! Fidati Alessio non è entrato nella stanza! Allora tu adesso dovresti cercare di affacciarti! Lanciare il razzo a destra! Come si lancia il razzo? Allora prima lo devi selezionare con il cerchio quando esci fuori! Attento se esci fuori! Fai come vuoi! Io ti ho avvisato! Come lo seleziono? Cerchio! In alto a destra! Lascia! Adesso con... Prima accendilo col quadrato e poi lo lanci con L2! L2! Si! L2! Non R2! No! No! Allora! Col quadrato lo accendi! Con L2 prendi la mira e con R2 lo lanci! Eh va oltre la mia capacità di coordinazione! Occhio, mano, cervello! Non so se hanno assimilato che il radar fa bene! Bravo! E adesso che cazzo fai? Vai avanti te perché sarà al 15 e non so dov'è! Adesso io lo lancio alla torista andrà a sinistra ma non so dov'è! Quindi avanti te! Devo aspettare! Se lo fai spegnere sei morto! O ti sbrighi o non passi più Alessio! No! Non ti preoccupare! Hai durato un botto prima! Oh no! Peggior lancio della stagione mi hanno detto! Scusa! Hai sprecato il razzo! Adesso magari se io lo lanciavi subito! Allora vedi! Dove vai? Mi nascondo! Tanto è passato! Adesso prova a lanciarlo! Eccolo! Sei morto! Sei morto! Sei morto! Vabbè sì ciao Alessio! Vabbè! Vabbè sei proprio cretino! Cioè sei proprio cretinissimo! Ma cosa cazzo fai adesso? Spiegami! Ma perché non guardi? Perché mi da un fastidio! Cosa fai? È andato via! È impossibile! Te lo giuro! È andato via! Ti entra a quattro ho detto però! Eccolo qua! È morto! Ma figo! Ti fa la cadere a terra! Comunque qua dice non dovete entrare! Non dovete entrare! Deve fare il giro circolare! Eh ma il giro circolare è impossibile con l'alieno! Cioè se ce lo troviamo! Che cazzo facciamo! Che giro circolare facciamo! Il giro circolare di sto cazzo facciamo! Secondo te quando dicono no ma seriamente voi dovete fare altri video del genere! È perché uno non ha visto le precedenti puntate di A pranzo con! Due è perché intende è meglio se cambiamo genere! Voleva essere sicuramente due direi! Sì ma non vedi niente se arriva l'alien! Adesso guarda! Guarda c'è una cosa lassù! Eh vabbè! Vabbè! Io veramente sono imbarazzato a giocare con te! Guarda che fai a partire i secchielli mentre passa! Cioè io veramente! Io vi passo ogni volta a fare lo stesso giro! Io voglio che avessero pallottole! Colla! Cosa si fa colla? Eh vabbè! Allora io non so più che dirti Alessio! Sì vabbè! Cazzo pure i piedi! Vabbè sei fatto un coglione! Cioè sei veramente deficiente! Cioè veramente! Non ho fatto posto! Stavo andando indietro e mi avevo spinto! Vabbè proprio! Cioè io sono imbarazzato!